Sono davvero gravi, gravissime, le affermazioni, le dichiarazioni del presidente del Consiglio Comunale di Taranto, Piero Bitetti, in una nota inviata ai consiglieri di maggioranza. Affermazioni che ci danno conferma di un presidente che non è assolutamente terzo, che viola il principio di terzietà. Un presidente dovrebbe essere come un notaio, come un arbitro, al di sopra delle parti, al di sopra della maggioranza e al di sopra della minoranza. Oltre al fatto che è stato eletto con una maggioranza e ora quella maggioranza non ce l'ha più e rimane lì arroccato alla poltrona. Ma lasciamo perdere questo. Pensiamo alle affermazioni gravi che ha fatto. Si è rivolto ai consiglieri di maggioranza con un ragionamento che fa paura. Addirittura parla di una allarmante situazione politica. Tu non devi esprimere giudizi, tu sei al di sopra delle parti, tu sei il presidente. E come ti permetti di riferirsi ai consiglieri di maggioranza e parlare di capacità di analisi offuscata? Ma chi sei tu? Il Dio Sole? E poi ancora. Addirittura i consiglieri chiedono le dimissioni di Bitetti e, a suo dire, questa iniziativa rischierebbe di creare, di arrecare ulteriore danno di immagine, non solo al sottoscritto, ma anche al civico ente. E sì, perché chiedere le dimissioni di Bitetti è come, non lo so, offendere San Gennaro nel Duomo di Napoli, perché giustamente Piero Bitetti è Dio in terra e allora chi minimamente si permette di criticarlo si macchia di lesa maestà. Ma non è tutto. Ci sono state delle proposte presentate in Commissione Affari Generali, di cui sono presidente, in cui 16 consiglieri e poi il consigliere Francesco Battista, che è un consigliere di minoranza, su vari argomenti sono intervenuti proponendo delle modifiche al regolamento, appunto, per il funzionamento del Consiglio Comunale. Delle modifiche su vari temi. Il question time, la mozione d'ordine, la commissione elettorale e così via. E ancora, le modalità di elezione del Presidente del Consiglio è la mozione di revoca, la sfiducia, diciamo, al Presidente del Consiglio. Bene, lesa maestà, perché Bitetti evidentemente vuole tappare la bocca, tappare la bocca a dei consiglieri che vogliono, che stanno proponendo legittimamente, liberamente, delle modifiche al regolamento, sul funzionamento del Consiglio Comunale. Io devo essere libero di proporre quello che voglio. Ed è gravissimo che a stigmatizzare, a invitare, a ritirare queste proposte, sia proprio una persona che dovrebbe essere al di sopra delle parti. E invece interviene a gamba tesa. Tu non ci tappi la bocca, Piero Bitetti. Non ce la tappi. Ascoltate, anzi, poi leggete anche cosa ha scritto. Nella speranza, quindi, che siate proprio voi a non perdere definitivamente di vista il ruolo ritagliatovi dagli elettori. Perché il ruolo ritagliatoci dagli elettori qual è? Dire Piero Bitetti è intoccabile. Vi invito a ritirare la proposta di modifica del regolamento comunale. Tu non inviti proprio a niente. Va bene? Perché noi siamo liberi. Ed è grave. Stai calpestando un ruolo istituzionale della terza età. Perché tu non puoi dire, ritirate. Tu che sei presidente. Il consigliere presenta tutte le modifiche che vuole. E tu non devi mettere bocca. E da desistere dai vostri intenti di far decadere il sottoscritto dal proprio ruolo. E sì, perché non si può toccare Gesù Cristo Bitetti. Per evitare che tali estemporanei iniziative arrecchino un documento ad una città che non ha bisogno di ulteriori problemi e pubblicità negativa. Perché evidentemente per Bitetti cambiare il regolamento e eventualmente chiedere le dimissioni ed eventualmente sfiduciarlo, beh, questo creerebbe problemi alla città. La città può fare a meno di Bitetti presidente del Consiglio Comunale. Anzi, starebbe molto meglio senza Bitetti presidente del Consiglio Comunale. Caro Presidente, ti ho detto tutto. Penso proprio di averti fatto a fettine, fettine, politicamente parlando. E' grave che tu intervieni su dei consiglieri e dici non potete, vi invito, vi invito a desistere dalle modifiche sul regolamento. Noi siamo liberi. Tu non puoi tapparci la bocca. Questa è democrazia, caro Presidente. E per questo ti devi dimettere. Ora basta, la misura è colma. Taranto non è, non è una città sotto dittatura. E tu, caro Bitetti, devi imparare a essere democratico. Soprattutto tu, che sei presidente del Consiglio Comunale.